cosa cosa ci dici di luciano luciano è un bel cignalone secondo me quest'oggi farà o 45 o 46 senti che è gufata ok allora altra intervista alla fine della gara per sapere del risultato è se ci arriva alla fine della gara anche che lo pianti in un bunker ce lo ma bad no